Acconciature d'estate e istruzioni per l'uso. La bella stagione alle porte e la voglia di cambiare look si fa prepotente per affrontare con una marcia in più impeccabile. Abbiamo chiesto ad Angela Pargolo, hair stylist di Mola di Bari, come destreggiarci tra colori e tagli in voga. Per l'indagine che ho fatto, per i capelli, il cliente ci tiene tantissimo. La donna tra l'estetica e il capello per me spende molto di più. Anche perché io ho un cliente che mi viene a trovare anche due volte alla settimana. I colori sono abbastanza riflessati, non ci sono più i colori matte perché la gente ama l'effetto sole. Quindi abbiamo le sfumature solo sulle lunghezze, ci sono dei colori decisi che sono un po' i rossi, ma i biondi andiamo su sfumature molto naturali. Come tagli invece ci sono le linee abbastanza corte e linee abbastanza sfilate. Abbiamo l'ondulazione quest'anno. Per colore taglio e piega si spendono in media 45 euro, ma anche gli uomini negli ultimi tempi reclamano la dovuta attenzione per le loro chiome, corte o lunghe che siano, rubando talvolta anche la scena alle loro compagne. L'uomo per me è diventato più esistente della donna. Noi abbiamo un ragazzo che taglia i capelli qua, l'uomo più che tagliare è a concia. Non ama colorare, quello sì, però il sabato magari che vanno in discoteca, vengono qui, si pettinano. L'uomo quest'anno lo vedremo con il capello comunque corto, perché l'estate giustamente va al corto, però sono sempre tagli abbastanza svuotati, non sono tagli di rasatura. La rasatura insomma non se ne vede più. Nei mesi estivi i capelli non vanno solo acconciati, bisogna prestare loro particolari attenzioni. Tintarella e bagni sono un must, ma possono avere conseguenze poco piacevoli sulla nostra capigliatura. Che trascorriamo le nostre vacanze sotto il sole, a contatto con la sabbia, al mare o in piscina, oppure in montagna, i nostri capelli vengono comunque colpiti dalle alte temperature. Non ci vuole molto a rovinare una bella chioma, mentre è necessaria una grande fatica per riportarla in salute. Allora meglio puntare sulla prevenzione, piuttosto che correre ai ripari quando è già troppo tardi. I capelli vanno curati molto l'estate. Ci sono comunque dei gel protettivi, dei gel che anche se magari non amano l'effetto bagnato, però l'estate è carino, il capello ondulato bagnato. Ci sono dei gel, dei spray solari, che sono degli spray anche che possono mettere sul corpo perché sono abbastanza protettivi. E poi ci sono creme, trattamenti, shampoo, c'è una vasta scelta. E per l'epatite della piega a tutti i costi, come conciliare clima estivo e capelli sempre a posto? Con la calura verrebbe voglia di lasciare i capelli liberi di riposare. Per evitare di trasformare la stagione del sole e del divertimento in una snervante battaglia di pettini, è assolutamente necessario adattare lo stile al nuovo clima. Sembra impossibile, eppure la soluzione per conciliare salute ed estetica c'è. Giusto che quest'anno c'è la permanente ondulazione, quindi noi bene o male consigliamo un sossegno. Non usano fone, non usano piastre, non usano niente, le asciugano al sole. Quindi il capello si rovina meno ed è più pratico, più giovanile, più moderno. La regola da seguire è la semplicità, vale a dire una capigliatura fresca e naturale che non dia l'impressione di una elaborata creazione frutto di intense ore di lavoro. Dulcis in fundo abbiamo chiesto all'esperta di risolvere l'annosa questione, ma gli uomini preferiscono ancora le bionde? Sì, 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 sì. Il biondo almeno da parte mia è quello più richiesto. I ragazzi amano sì le brune, però la bionda è sempre la bionda. Sarà, ma l'adagio dice anche che alla fine sposano le more.